Come arrivai? Eh, dammela, sì. Robby, che succede? Ciao tesoro, ascolta. Mi ha contattato Barbara D'Urso, ok? E alla redazione di Barbara D'Urso, ovviamente, arrivano notizie che noi non sappiamo. Cioè, tipo che Fabrizio Corona si è comprato una nuova saponetta profumata alla lavanda. Però non è questo che te volevo dire. Mi ha detto che stanno arrivare quelli dell'ISIS e vanno bombardare la gente. Però sono la gente che è nata dal 1998 al 1980, perché gli altri sono tutti vecchi e noi vanno ammazzare. Vanno ammazzare solo i giovani. Quindi, se state dentro una piazza, mettetevi vicino a gente vecchia, perché sicuro la bomba là vicino non ci esplode. Perché quelli dell'ISIS so come VR fanno la selezione all'ingresso. Quindi, facendo riepilogo di tutte le stronzate che ti ho detto fino adesso, mi raccomando, non andate al centro. Niente piazza San Pietro, niente bimbo minchiate a Ponte Mirvio a metti lucchetti stile Mucino. Sì, sì, meglio che il piano ci rimango chiusa al cesso a farmi i selfie. Quindi, rimanete in piazzetta a farvi le bombe, quelle che si fumano, non quelle che si accennano e scoppiano. Mi raccomando, non andate al centro di Roma, non piate i mezzi così l'ATAC fallisce completamente e inviate sto messaggio a tutti su WhatsApp. Se no, vi apparirà nel sonno un mostro titanico e avrete sfortuna per i prossimi sette anni. Va bene, va bene, faccio subito. E basta che comunque sto cazzo di ISIS non ci attacca pure quando ci staranno i sardi perché mi frega un cazzo, io esco lo stesso. Quindi, facendo riepilogo di tutte le stronzate... No, non gliela faccio, raga.